Liste di attesa, calcolo del fabbisogno assistenziale annuo, revisione della domanda di salute della popolazione, in particolare sul territorio casertano, afferente al comparto della riabilitazione e del sociosanitario. Sono questi i temi affrontati nel forum dibattito promosso da Aspat Campania, che si è tenuto oggi all'hotel Van Vitelli a San Nicola La Strada. Al centro del dibattito, l'assistenza negata per cittadini e famiglie casertane, dove l'asile di lavoro sbarra il passo alle prestazioni di cui i pazienti necessitano. Per un errore di calcolo del fabbisogno e della programmazione, infatti, che va avanti dal 2014, i centri erogatori accreditati lavorano con il freno tirato. Le conseguenze sono la scarsa quantità e qualità delle prestazioni erogate agli utenti e le lunghe code, anche di svariati mesi, per accedere alle prestazioni necessarie. A pagarne le spese sono soprattutto i pazienti casertani, costretti ad emigrare in altre asile, ha spiegato per Paolo Polizzi, presidente dell'Aspat Campania. L'obiettivo di questo forum è quello di tenere tutti i soggetti, attori della vicenda assistenziale, riabitativa e della specialistica, in un unico contenitore, per poter affrontare insieme, in modo coeso, le questioni e elaborare una proposta, una piattaforma di punti, da portare poi all'osservazione del presidente Deluga, nella sua qualità di commissario ad acta per la sanità.